Far below on youtube, with his lot, with his lot, now there is far below E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Spider-Man Beh, guardate che figo questo costume Beh, praticamente, oggi Beh, praticamente oggi dobbiamo andare a una festa di Halloween Perché? Non lo so, non me lo chiedete Lo vedremo con il trascorrere del video Quindi, guardate il video fino alla fine che vale la pena, mi raccomando Ma, vabbè, mi raccomando Ma, facciamo così, ci vediamo quando sono arrivato Ok, siamo arrivati Ok, beh, praticamente lo dobbiamo trovare Che poi, guardate che figo, questo costume fa anche la luce Cioè, ditemi se non è figo, aspettate Ok, no, beh, mi ero scordato di accendere la luce Ciao, frate, questo è costume, questo è vestito da Spider-Man Ma, tu è vestito da Spider-Man? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che mi piace di questo costume è che è malaluce, vedete? Ah, eh sì, ma lo dobbiamo salvare, giusto? Senti frate, tanto ti hanno scoperto ormai, dai, usa le ragnatele, dai, no. Oh, ora si combatte. Sì, cazzo. Oh, siii. Facciamo fuori per maestri che non scassa la cazzo. Mh, bimbi per strada. Mi fai prendere la cosa, singola, mamma te. Ah, muori, bastarda. Ma, eh, che cazzo. Ma, eh, muori, col ghione. Beh, proprio ben felice Halloween. No, però... Surprise, mother fucker. Oh, mi fai prendere la cazzo. Oh, non ci posso? Questa notte ci cambia Ma tu Ma lei Ma lei Ma mi divido come cazzo ha fatto Dopo la finestra Ok Però questo gioco è fatto proprio benissimo Sono contento Perché questi episodi vi piacciono Ecco vedi Questo Cioè vedete Questo costume Da come dire Da fuoco Che comunque Devo trovare un modo E' diventato negativo Eccolo è diventato negativo Che è successo Stai bene Da ucciso che ha fatto E' la madonna Come si uccide Come si uccide Per sempre registrare con OBS Ma farvi sentire l'audio del gioco Che comunque è brutto Io sto sentendo l'audio Ma c'è Voi no Che di soli il gioco L'interro Che rinco è Che rinco è Fatta abbastanza Senti Facciamo così Facciamo fuori Prima questo Facciamo fuori Che è tutto grosso Perché questi Con le pistole Hanno Sono più rompipalle Sì Mi volevi fare una sorpresa Molto piacere Magari apri la porta Non Schiantando di contro Ok E lo che cazzo Ok beh Ah e sì perché io E sì perché giustante Queste ne sono perso E sì perché giustante Queste sono persone Innocenti Ecco vedi Queste essendo persone Innocenti Io mica le posso ammazzare Cioè ovviamente Spiderman Mica uccide Ma che cazzo E sì perché non le posso uccidere Perché sono comunque persone Innocenti Vai corri corri vai bestia Scusa, ok. Ok, poi vedrebbe, poi gadget, si, oddio, un cazzo. Poi vedrebbe, abilità, ho un punto abilità e dai, spendiamo in qualche cosa, a casa. questo vuole due questo uno ok facciamo così se questo video vi è piaciuto io vi invito a mettere un bel mi piace commentate, condividete, iscrivetevi attivate la campanella noi ci vediamo domani vi volevo dire che sto iniziando a collaborare con questa ragazza che si chiama Beatrice che fa dei video secondo me molto validi se vi volete iscrivere al suo canale magari condividerli anche il suo canale l'ho trovato in descrizione e se mi dovessi scordare di mettere il suo link in descrizione è esattamente da questa parte vedrete in sovraimpressione un'immagine del suo canale youtube mi raccomando come ho fatto io iscrivetevi anche voi ovviamente questa cosa la farò sia io che lei io metterò in descrizione il suo canale e lei metterà in descrizione il mio canale io visto che voglio fare la cosa la voglio fatta bene metto anche un video ovviamente il video sarà sempre lo stesso quindi non vi stupite se vedrete sempre la stessa cosa grazie a tutti